La Opel Zafira Tourer è una monovolume compatta erede del modello lanciato nel 1999 e pronta a sfidare la rivale storica Renault Scenic, non meno che la best seller Ford C-Max. Con questa terza generazione si allunga di ben 19 centimetri arrivando a 4 metri e 66 e cresce anche in larghezza di 8 centimetri. Ha tutto vantaggio dell'abitabilità che, come sulle precedenti Zafira, è per 7 persone con tre sedili regolabili singolarmente sulla seconda fila e due ripiegabili a filo del pavimento sulla terza. L'abitacolo rimane dunque fedele alla meritata fama di grande versatilità. Accanto a motori a benzina o a gasolio ne è disponibile anche uno con la doppia alimentazione benzina-metano.